Amici del calcio femminile ben ritrovati sul canale dedicato a voi. A Lampo, pochi minuti dopo la conclusione della partita, annotiamo un altro verdetto importante del calcio femminile italiano che ha una nuova protagonista di Serie A, la Lazio, che è la nona formazione sicuramente iscritta al campionato dell'anno prossimo dopo le 8 tutte riconfermate. Mancano ovviamente Napoli e Pomigliano, una delle due sicuramente finirà in Serie B l'altra giochera allo spareggio contro la seconda classificata del campionato cadetto. La Lazio doveva vincere sul campo del Ravenna e ha vinto in quello che era l'anticipo della penultima giornata del campionato cadetto ma è stata una partita sotto certi aspetti addirittura drammatica per la formazione capitolina che è riuscita a sbloccare il risultato soltanto a tempo quasi scaduto grazie alla solita ennesima prodezza di Noemi Visentin. È importante sottolineare il nome di questa ragazza che ha fatto un campionato assolutamente straordinario sia sotto l'aspetto degli assist che dei gol segnati. Aveva segnato anche la settimana scorsa dimostrandosi ancora una volta una giocatrice in grado di essere risolutiva arrivando alla doppia cifra di gol marcati in campionato ma con la partita contro il Ravenna in trasferta ha compiuto il suo capolavoro. Prima si è provocata un calcio di rigore clamorosamente sbagliato da Giussi Moraca poi personalmente è andata a segnare il gol dell'1-0 e quello del 2-0 in rapidissima successione. Il primo gol a pochi minuti dal termine e il secondo praticamente a tempo scaduto. Una vittoria giusta tutto sommato quella della Lazio sul campo del Ravenna perché la Lazio pur con molta paura e molta tensione la partita l'ha fatta dall'inizio alla fine rischiando pochissimo creando almeno 6-7 pallegoli importanti ma sprecando quasi tutto quello che c'era da sprecare. Ha colpito un palo nel corso del primo tempo, poi una traversa clamorosa nel secondo tempo con Gottberg e poi l'occasione più importante, calcio di rigore come dicevamo Procuratore Visentini è clamorosamente sprecato da Giussi Moraca anche per via della prodezza del portiere romagnolo Martinoli. Merito dunque alla Lazio che conquista la sua 25esima vittoria stagionale in 29 partite un cammino straordinario, quella della formazione capitolina che si riscatta pienamente da quella che era stata la delusione dello scorso anno quando la serie era sfumata proprio nelle ultime giornate di campionato di regular season e poi soprattutto nello spareggio contro il Pomigliano nei due match decisivi che avevano decretato la salvezza delle Pantere è un'altra stagione di campionato cadetto per la squadra allenata da Grassadonia che riconfermato sulla panchina bianco-azzurra ha fatto sicuramente il suo dimostrandosi comunque allenatore in grado di dare motivazione alla squadra diversificandola anche dal punto di vista tattico a più riprese e gestendo nel modo migliore quello che sicuramente per il campionato di Serie B era un roster di primordine. Lazio dunque promossa nel massimo campionato in attesa di vedere quello che succederà per il secondo posto che vedrà, lo ricordiamo ancora una volta, un testa a testa tra Trennana e Parma che probabilmente durerà fino all'ultima giornata di campionato quando il Parma dovrà giocare proprio sul campo della Lazio a Formello dove si festeggerà presumibilmente la promozione, il ritorno alla Serie A della Lazio dopo due anni di assenza ma dove il Parma invece si giocherà tutta un'intera stagione negli ultimi 90 minuti. Grazie a tutti!